Vedremo come iniziare la propria carriera all'interno di un percorso, un percorso proprio basato sul 3D, quindi un pochino anche dalla mia esperienza personale e un pochino anche con quello che si va a imparare sul campo, vi illustrerò un pochino come poter cambiare se stessi. Cambiare se stessi è un po' una provocazione, non è che dobbiamo assolutamente pensare che oggi siamo amori e domani saremo biondi. Questo non lo possiamo fare assolutamente se non ci tingiamo i capelli ovviamente, però il concetto è che se noi vogliamo creare qualcosa dobbiamo innanzitutto fare un'analisi, dobbiamo cercare di capire innanzitutto chi siamo e dove vogliamo arrivare. Questi sono dei concetti basilari che spesso ci si dimentica. Perché faccio questo workshop? Perché negli anni, specialmente andando in giro per le fiere, mi sono reso conto che ci sono degli ottimi artisti, ma pochi di loro sanno presentarsi, pochi di loro sanno interagire anche con le persone, sanno che cosa vuol dire parlare alle persone. Spesso ci dimentichiamo che quando parliamo con le persone non sono sempre al nostro livello, al nostro livello tecnico, ok? Se io vado a parlare con una persona che non ha mai fatto 3D, non posso parlare di coordinate 3D, di tools, di comandi, shortcut molto particolari perché magari questa persona non ha mai avuto a che fare con questo mondo e quindi potrebbero nascere delle incomprensioni. Se nascono delle incomprensioni, nasce sicuramente anche un sapersi, tra virgolette, vendersi male, ok? Dico vendersi male perché il nostro primo lavoro non è quello di essere dei 3D artist, essere degli architetti, degli ingegneri, dei videomaker, dei fotografi, ma il nostro primo lavoro deve essere quello di sapersi promuovere, di essere un account, un commerciale di noi stessi. Quindi prima cosa bisogna riuscire a vendersi agli altri, bisogna riuscire a far capire agli altri come siamo fatti noi e quindi come poter farsi vedere anche come poter lavorare al meglio. Grazie mille. Grazie a tutti.